Sì, volete parlare? Adesso andate qui. E' una prova questa qua? No, adesso inizierei anche perché... Sì, ma tu fai i presenti. Sì, va bene. Oggi, 24 ottobre 2015, primo congresso del partito per i nostri figli al centro civico di Camerlata-Como, Presidente Carlo Arnaboldi, Consiglieri Dego e Sebastiano Ferrari, Aniele Longobardi, Ilana Mici, Costantino Leonardo, Decato Perlurato. La parola, la parola, Diego e Sebastiano Ferrari. No, aspetta, no, io direi... Io riprendi, perché va bene, perché devi passare da qualcuno di noi. Può essere anche Diego, posso essere io, come voi. Io devo fare una carne. Ok, va bene, no, perché giustamente. Se è fuori onda, va bene, tranquillo. Se è fuori onda, va bene, in televisione, no? Ma non è la carne a Ravoldi. No, devi ripartire, devi ripartire, ho il risultato, tranquillo, devi ripetere, poi tagliamo la prima parte. E se è così, come fuori onda, vai da qui, oggi giorno... Allora, oggi, giorno 24 ottobre 2015, primo congresso del partito per i nostri figli, al centro civico di Camerlata-Como. Esponono il presidente Carlo Naravoldi, i consiglieri Diego e Sebastiano Ferrari, Agnelo Longobardi, Ilario Mici, Costantino Leonardo e Carlo Pegoraro. Adesso passiamo la parola a Carlo Naravoldi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, vi ringraziamo di essere presenti, il primo congresso è stato... Qualcuno dovrebbe abbassare il volume. Facciamo la parola a Tabilatto, facciamo la parola a Tabilatto. E no, ma suona. Facciamo la parola, adesso funziona bene. Allora, il boom, ma non va bene, va abbassato un po'. Sì, va abbassato il volume. Spendi quello, spendi quello. Spendi quello. Spendi quello. Spendi quello. Spendi quello. Adesso? Sì. Ok. Ma ne ho noto, vieni che ci giriamo questo. Allora, la prima parte sarà... Quindi, ringrazio la presentazione del nostro amico che collabora con noi, che sarà durante un futuro iscritto, il... praticamente Andrea Calicchio. E allora, ad oggi, adesso in questa fase, visto che sono presenti il consiglio direttivo e visto che il congresso è necessario che vengano gratificati i nomi del congresso, i presenti, diciamo di iscritti, devono praticamente decidere se gratificare gli incarichi attualmente della premonazione. Diciamo che il partito politico quando viene costituito c'è l'obbligo per legge di fare un primo congresso e gli stessi poi devono gratificare gli incarichi. Poi poi spiegheremo in una seconda fase la motivazione che ci hanno spinto a fare un nuovo partito politico. Adesso a questo punto direi che passerei la parola a Diego Sebastiano Ferrari perché poi dovremo iniziare proprio con la raccolta dei presenti delle deleghe e il discorso della votazione e la ratifica degli incarichi. Direi di fare una presentazione dei consigli attualmente i miei miei consigli sono già fatti, giustamente diciamo Andrea Calicchio e a questo punto direi che potremmo iniziare proprio la presentazione che uno spiega un attimino perché è stato motivato a fondare un partito politico in sintesi e poi entriamo nella spiegazione delle votazioni. Diego? Buongiorno a tutti, io sono Diego Sebastiano Ferrari, provengo da Milano e sono entrato in questo partito per un'idea anche personale insieme all'amico Carlo Anna Boldi in quanto ci siamo trovati esattamente l'8 gennaio del 2013 a Milano Bovisa, a Politecnico e ci siamo trovati grazie a un nostro conoscente e da lì è partita l'idea di fare qualcosa. Quindi la vera idea era partita già un paio d'anni fa. Poi chiaramente con tutto quello che è successo dietro, che è stata la votazione in febbraio di quel anno, problemi, quindi già l'Italia era una situazione un po' disastrata, abbiamo cominciato il 9 di marzo a raccogliere le idee su degli appunti, su dei fogli moranti, giusto per prendere nota su un appunto di capire cosa dovevamo scrivere per proporre il successivo. Quindi a questo momento posso dire che il coinvolgimento per me è partito già due anni fa, quasi tre anni ormai fa poco. Però l'importante è crescere, l'importante è abbozzare le idee e cominciare a dire cosa si vuole fare. A volte le cose fatte di fretta sono cose che portano a una conclusione abbastanza dispiacevole perché poi magari le cose fatte di fretta vengono male, invece con la calma si arriva a fare tutto e perché no, cioè nella vita le persone possono capire tutte le cose gradatamente, poi ci sono quelli che magari ci mettono due minuti a capire, che ce ne mettono dieci, un quarto d'ora, poi mi ha preferito andare con un passo tranquillo per arrivare a un traguardo obiettivo col tempo, in un cambiamento del nostro paese, perché abbiamo avuto troppe troppe cose sbagliate, io ogni mattina che accendo la televisione, alle sei e mezza del mattino fino alle sette e venticinque, in un ufficio, sento la carrellata di notizie, ma sono solo notizie che fanno veramente bene il mal di stomaco, perché è ammissibile e inammissibile che abbiamo a Roma gente che governa e che non è stata neanche eletta, questa è la cosa più grave che secondo me è da dire, scusate se mi sono già permesso di partire, ma so che è una presentazione, però ho già dato un biglietto da visita per far capire anche il partito che intenzioni ha, intenzioni di non fare come tanti partiti che vengono fuori e poi sono dei fantasmi che scompaiono dietro le quinte e poi non li vedi più. Noi andiamo alla nostra velocità, però vogliamo piano piano diffonderci in mezzo alla gente e far vedere quello che veramente vogliamo fare. Io adesso lascio la parola alla presentazione Donaldo Costantino e ringrazio per chi mi ha ascoltato. Buongiorno a tutti, io sono Donaldo Costantino, vengo da Genova, Liguria, e ho sposato questa idea di fondazione del partito perché come tutti i cittadini di questo paese abbiamo intenzione appunto di cambiare molte cose che assolutamente non vanno e che non rimangono solo chiacchiere ma anche fatti e quindi partiamo e piano piano si cresce sempre di più fino ad arrivare in punti importanti della storia e iniziare a fare qualcosa di più. Ora passo la parola a Aniello. Buongiorno, sono Aniello Gopardi, vengo da Gattu, provincia di Como. Io aderito a questo progetto conoscendo il presidente Carnarvoldi perché ho incominciato a crederci su questo nuovo progetto sperando e con la partecipazione di tutti noi di avere un'ambizione molto forte per tutti questi problemi che sono stati annunciati prima. Riprendo la parola, direi a questo punto visto che l'elenco del direttivo delle persone andrei direttamente poi per entrare nella spiegazione effettivamente di come in dettaglio il partito e gli obiettivi del partito in sintesi io direi a questo punto passerei alla presentazione dei membri del consiglio direttivo ecco, diciamo, in sintesi per, abbiamo fatto uno statuto del partito ovviamente, abbiamo registrato la gestione delle entrate e diciamo, rispetto ai periodi tradizionali dove il segretario ha un ruolo preeminente abbiamo pensato al consiglio direttivo di persone interattive dove si riuniscono, diciamo, un po' l'ispirazione ai cavalieri della tavola rotonda diciamo, sembra magari una volta era un sogno, magari un personaggio e secondo me invece, altra evoluzione di persone con formazione in settori diversi possono a quel punto confrontarsi e cercare di risolvere il punto interagente diciamo, la motivazione perché abbiamo fondato un nuovo partito politico è proprio perché nei partiti politici esistenti non ci riconosciamo, quindi il partito cerca di risolvere qualche problema ma non si analizza tutta la situazione generale e a volte, magari, devono essere fatte delle scelte anche che sembrano popolari ma poi nell'interesse per tutti io direi a questo punto che mi presento sono Carlo Arnavoldi attualmente è risultato presidente del partito al momento, diciamo, si è deciso, abbiamo fatto una riunione in incontro preeminare, abbiamo deciso i ruoli del nuovo direttivo li presentiamo direttamente a questa assemblea e questa assemblea poi deciderà in merito se confermarci nominerei come presidente di questa assemblea il signor Aniello Longobardi e come segretaria una recente iscritta che è la Claudia Claudia, vieni qua magari da di noi un attimo e ti presentiamo come segretaria del congresso solo per questa riunione, tranquilla, non c'è nessun problema quindi diciamo, quindi diciamo, magari ecco, ok prendiamo l'altra sedia benissimo si, 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 si si, 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 non c'è problema ecco, si, si, si si, 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 non c'è problema tranquillo, però capito lo volete ecco ecco diciamo a certi di fare un segretario poi il normale verrà vedato dal presidente Adesso lo semplicemente dire, guarda questo, sembra, e poi siamo sicuri che diamo di sottolineare risonanze, ci sono un po' di... Tecologicamente dobbiamo dire un'idea. In questo caso non ha sempre di essere la segretaria, giusto? Tranquilla? Sì, sì, ha certo di fare la segretaria e... Va benissimo. Niente, anche se sono un'impresatura, però, come si dice, basta crederci. Benissimo, ti ringraziamo. Allora, adesso, a questo punto, io faccio la proposta, giusto per... La nostra logica è quella di andare, come giustamente diceva Diego, non andare proprio di forza, ma stabilire che ogni cosa ha un tempo giusto, visto che l'organigramma del direttivo del partito, penso che l'abbiamo già tra noi valutato, e a questo punto, presenti, attualmente presenti, la scheda di presenti sono 11 presenti, attualmente, come ho verificato, chi ha fatto l'elenco? No, gli iscritti sono... No, gli iscritti presenti oggi, perché veramente le vocezioni, quindi abbiamo, oltre ai consiglieri, ci sono presenti, oltre ai 5 consiglieri presenti, il senso che il programma non c'è, però, praticamente, abbiamo la delega del signor Massimo Guzzon, che ho io, e praticamente del signor Valdeglio Giozzi. Come è scritto? Siamo in... Presente, certamente... 5... 7... 7... Quale delega 9? 9, perfetto. 9 presenti. Che padre è scritta? Per esempio, è perfetto, però non è scritta. Eugenio Grovati. Il signor Valdeglio è approvati in un futuro, quando si iscriverà, ci sarà da due volte. Comunque, tutte le persone sono invitate a collaborare la sua mano per migliorare la situazione dell'Italia. Quindi, diciamo, io presento questo punto, questo progresso, poi verrà fatto, ovviamente, in verbale. Diciamo, attualmente, io mi ricambito come Presidente, Presidente Carlo Valdi. Come segretario, diciamo, che è uno dei fondatori, uno dei primi a crederci, direi che mi sembra logico, come ne abbiamo parlato, il signor Valdeglio Sebastiano Ferrari. Ok. Che penso, che penso che... Sì, sicuramente, sicuramente. E il signor Costantino Ronaldo, lo vedrai come tesoriero. Sì, accetto l'incarico come tesoriero, secondo Costantino. Sì, come direi che poi abbiamo, va beh... la mia consigliera Micilaria, che si occuperà soprattutto delle politiche giovanili, per il lavoro, quindi il sistema di ciusaggio che si attivano a tempo, come si attivano, ma si attivano. le donne e poi abbiamo il signor Becoraro Carlo che dovrebbe essere un po' il controllore del tutor del bilancio insieme al tesoriere, quindi magari si rapporteranno loro nel merito quando sarà. Invece il nostro consigliere Agliano Roboba